Musica Amiche e amici di Rossini TV, buona serata a voi, benvenuti sul canale 80 del Digitale Terrestre per seguire un incontro interessantissimo che è stato organizzato dalla Confcommercio di Pesaro Urbino presso la sede di Strada delle Marche. In realtà saranno presentati nove punti, nove proposte per la prossima legislatura dal direttore Varotti ai politici che interverranno e che intervisteremo tutti. I punti chiaramente riguardano l'Europa, la riforma del fisco, lavoro e contrattazione politiche attive nel welfare, trasporti e logistica, transizione digitale, città commercio e servizi di prossimità, agende turismo e cultura, agenda professioni, agenda giovani e imprenditoria femminile. I temi sono tantissimi, ci aspettiamo davvero tante risposte da chi fra una settimana molto probabilmente rappresenterà il territorio a Roma. A Merigo Varotti siamo a sei giorni dalle elezioni, un incontro fortemente voluto da Confcommercio. Oggi saranno ospiti della vostra struttura dieci politici importanti, nomi che saranno da votare domenica. Abbiamo letto nove proposte di Confcommercio per la prossima legislatura. Sì, abbiamo scelto di incontrare i candidati tutti insieme, solo quelli della provincia di Pesorubino, ben inteso, quindi non quelli che dal Veneto vengono candidati nelle Marche o da Lombardia vanno in Sicilia. I pesaresi che diventeranno parlamentari, speriamo, e quindi trovare degli interlocutori attenti alla situazione provinciale e attenti anche a quelli che sono gli impegni che oggi noi gli faremo sottoscrivere. Perché appunto sono diversi argomenti che fanno parte del documento che presenteremo ai candidati. Di questi ce ne sono alcuni fondamentali per noi. Uno di questi è una legge ad hoc per il commercio, per il commercio di vicinato. Io credo che la politica abbia poco capito, poco compreso, che il commercio di vicinato, le botteghe, bisogna sostenerle se non vogliamo la morte della nostra anche offerta culturale. L'Italia è il paese dei centri storici, è il paese delle piazze. Nelle piazze c'è vita, ma c'è vita finché ci sono i negozi. I negozi stanno sparendo per colpa di una politica miope che ha favorito la grande distribuzione commerciale, desertificando in questo modo i centri storici e i piccoli paesi. C'è necessità di una legge ad hoc con incentivi di carattere fiscale, semplificazioni che consentono la sopravvivenza e la vita delle piccole attività. C'è poi un tema grosso, come una casa, che è quello delle infrastrutture. Noi siamo e proponiamo ai candidati di sottoscrivere un documento con degli impegni. Uno di questi è una nuova linea ferroviaria per le Marche. Non ci basta un bypass per Pesaro e per Fano. Abbiamo tutto un territorio regionale che ha necessità di un collegamento rapido e quindi c'è bisogno di una nuova linea ferroviaria. Così come sosteniamo la necessità del ripristino della tratta ferroviaria Fano-Urbino, non solamente a scopi turistici, ma anche per l'università. In questi giorni abbiamo letto con preoccupazione di diversità di vedute tra il Ministero dell'Infrastruttura e la Commissione dei Lavori Pubblici per quanto riguarda la guinza e quindi l'E78. Si rischia un nuovo stop a questi lavori che ormai sono l'incompiuta di 50 anni. Noi chiediamo invece ai politici e ai parlamentari un'accelerazione sul fronte della E78 perché è assolutamente necessaria per collegare le Marche con Roma e con il Tirreno. C'è poi il tema della viabilità sostenibile e quindi l'accelerazione per la ciclovia dell'Adriatico che collegherà il Colle del San Bartolo con la riviera delle Palme. Altro tema che sta a noi molto a cuore è quello del turismo. Da sempre Commercio è impegnata su questo versante e abbiamo almeno due temi che sottoponiamo nel documento. Uno è avere un Ministero del Turismo con portafoglio perché è inutile avere un ministro se poi non ha soldi da spendere e quindi questo vuol dire riconoscere l'importanza che ha il turismo nell'economia del Paese. Il turismo è per noi la leva fondamentale di sviluppo economico della nostra regione, della nostra provincia e uno dei motori di sviluppo del nostro Paese. Scarso però è il riconoscimento della politica nonostante l'Italia sia il Paese più ambito a livello internazionale da parte di chi fa le vacanze. Altro tema che parte poi da Pesaro è il riconoscimento della ristorazione come settore turistico perché la cosa stranissima è che la ristorazione, che è uno degli elementi di attrazione più importanti nel mondo del turismo, non fa parte del turismo, fa parte del mondo del commercio. E poi abbiamo l'assurdo che l'agriturismo, che fa parte del settore agricolo, quando ci sono finanziamenti in ballo diventa improvvisamente settore turistico, finanziamenti che non sono consentiti invece per il mondo della ristorazione. Poi l'altro tema che abbiamo vissuto anche quest'estate con preoccupazione è quello del lavoro. Su questo c'è il dibattito, un corso nel Paese sul salario minimo. Ecco, noi crediamo che vada rafforzato il ruolo della contrattazione, però con una particolarità che noi sosteniamo e richiediamo danni. I contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative devono avere validità erga omnes, cioè devono valere per tutti. Non è possibile che noi, Confcommercio, che siamo un'associazione maggiormente rappresentativa, con i sindacati maggiormente rappresentativi, firmiamo un contratto di lavoro onesto, dignitoso e poi abbiamo invece sindacati farlocchi, associazioni farlocche che fanno contratti farlocchi con salari minimi bassissimi, da fame, che creano quello che poi stiamo riscontrando, la carenza di personale, gente che non va a lavorare nelle aziende del turismo, ma nel mondo del lavoro in genere. Paolo Costantini, il settore del turismo è preso in considerazione da Confcommercio nel suo manifesto proposto ai politici questa mattina. Ovviamente le emergenze sono tante, a partire da quelle per esempio dell'energia, dell'ambiente, del prezzo, delle materie prime, che sicuramente mettono in difficoltà anche il settore del turismo dal punto di vista degli albergatori. Sì, noi abbiamo affrontato questa stagione con una ripartenza in termini di presenze che ha dato molte soddisfazioni. Il problema è che vediamo lievitare i prezzi dell'energia, i prezzi delle materie prime e questo è molto preoccupante, anche perché poi vedremo nel fine stagione come effettivamente saranno andate le cose. Quello che però vorrei sottolineare in questa occasione, viste anche l'ultimo fine settimana il disastro che è successo nella nostra provincia e nella provincia di Ancona, che ci ha scosso fortemente, è quello del tema dell'energia e dell'ambiente. Noi siamo... il problema non è solo l'aumento del costo dell'energia, ma è l'impatto poi che le nostre attività e le nostre strutture hanno nell'ambiente. Quello che in questo momento a mio avviso andrebbe chiesto al futuro governo è proprio quello di investire nell'ambiente e nel turismo come attività sostenibile. Si parla spesso di turismo slow, di turismo sostenibile e dobbiamo ancora fare molto di più. Quindi questo è un aspicio poi per i prossimi mesi, ora possiamo solo rimboccarci le maniche e vedere come è andata questa stagione in termini di costi e purtroppo mettere mano anche ai disastri ambientali che sono appena successi. Samuela Melini, candidata per i 5 Stelle, presente anche lei ovviamente all'incontro voluto da ConfCommercio per la presentazione delle richieste di ConfCommercio. Nove richieste, sono tante. Al di là dei nove punti illustrati dal direttore Varotti, i 5 Stelle hanno idee molto chiare su quello che vorranno fare dopo il 25 settembre. Sì, le idee sono molto chiare perché dopo il 25 settembre la volontà dei 5 Stelle come da programma è di partire da dove eravamo rimasti con il conto 1 e il conto 2. Sappiamo che l'80% del nostro programma è stato realizzato e quindi dobbiamo ripartire da qui, da strutture portentose come il SuperBonus per poi passare per il reddito di cittadinanza con le giuste modifiche che dovremo fare e per arrivare poi alla spazza Corrotti per garantire la legalità. Però per quanto riguarda l'incontro oggi in ConfCommercio la cosa che ci preme è parlare del rapporto tra il fisco e le imprese. Vediamo che nel programma che viene presentato vi sono molti punti in comune con il programma dei 5 Stelle. A partire dall'eliminazione dell'IRAP, questa tassa che crea poi un doppio binario all'interno della contabilità delle imprese per arrivare poi alla riduzione del cuneo fiscale sia sulle imprese sia sulle famiglie, sui lavoratori passando poi per fondi di garanzia dall'80 al 50% a sostegno delle imprese a cura dello Stato per garantire prestiti, mutui e liquidità alle imprese. Il potenziamento dell'accessione del credito che deve essere poi applicato non solo al SuperBonus ma anche a tutto il comparto ad esempio agrario. Altra cosa fondamentale che ci accomuna è poi la previsione per quanto riguarda gli autonomi, le partite IVA e i piccoli redditi di una flat tax che non si tratta della flat tax raffazzonata dal centro-destra ma si tratta appunto di una flat tax soltanto per i minimi, abbiamo visto soltanto per i redditi inferiori con un fatturato inferiore ai 65.000 euro che noi come ConfCommercio chiediamo di ampliare e di applicare anche ai redditi che vanno dai 65.000 euro ai 100.000 euro. ovviamente l'aliquota sarà poi bilanciata. Federico Talè non poteva mancare all'incontro di ConfCommercio tanti temi proposti dall'associazione Federico Talè è particolarmente portato alla sanità qui parliamo di altri discorsi però crediamo che queste nuove proposte per certi versi poi vadano anche a intercalarsi in quella che è una situazione generale molto più ampia. Sì, sicuramente. Qui siamo alla ConfCommercio non credo che parleremo di sanità anche se la sanità è un tema che abbraccia un po' tutte le categorie tutte le persone, tutte le famiglie ma il tema dei temi quello che riguarda invece sia il discorso commerciale ma anche quello delle famiglie e quello soprattutto legato all'energia e quindi noi che siamo il terzo polo e che ci chiamiamo l'Italia sul serio il nostro slogan diciamo che le nostre proposte soprattutto per quanto riguarda l'energia ma anche, lei mi diceva, della sanità sono proposte che non hanno colore non sono né di destra né di sinistra ma sono le proposte vere le proposte serie che risolvono i problemi che provano a risolvere i problemi dell'Italia io dico sempre che ho due figli uno di 20 e l'altro di 17 tengo al mio futuro ma tengo molto anche al loro futuro e se tieni al futuro nostro ma anche dei nostri figli non puoi non pensare a una riforma per quanto riguarda l'indipendenza per arrivare all'indipendenza energetica radicale ecco, sia il centro-destra che il centro-sinistra hanno delle contraddizioni bestiali sulle loro proposte non dimentichiamoci che la Meloni fino a ieri raccoglieva le firme contro i rigasificatori cosa che invece noi mettiamo tra i primi punti per risolvere nel breve periodo il discorso energetico e noi lo facciamo perché al nostro interno non abbiamo nessun alleato che è contro questa cosa il programma nostro quindi io vengo da Italia Viva con il programma di azione sono due programmi identici ci contraddistingueva un pochino la questione del reddito di cittadinanza perché noi dicevamo che lo abolivamo del tutto loro dicevano che lo in qualche modo rivedevano ci siamo allineati quindi rivedremo il reddito di cittadinanza lo rivedremo in soldoni dicendo che alla prima offerta di lavoro logicamente chi prende il reddito se non l'accetta il reddito di cittadinanza non lo avrà più non solo ma chi prende il reddito di cittadinanza è giusto anche che si formi quindi vada a fare un corso di formazione perché in Italia serve un sacco di operai di gente specializzata che nelle fabbriche nelle nostre fabbriche non si trovano Renzo Savelli anche lui presente all'incontro voluto da ConfCommercio chiaramente è un momento molto importante per capire come la sua lista intende proporsi nel confronto delle nuove proposte di ConfCommercio certo io le ho lette attentamente le ho valutate e posso dire questo che la linea di massima nostra è in questi ultimi 30 anni sono aumentate le disuguaglianze e in un modo vertiginoso sono aumentate le disuguaglianze e quindi significa che chi era più in alto sta ancora più in alto e chi era più in basso sta ancora più in basso il commercio è un settore che qualcosa può tentare di reggimentare di riaquilibrare è un settore perciò delicato e importante e hanno fatto bene a fare queste proposte noi siamo naturalmente per la difesa dei diritti e non dei privilegi e i cambiamenti che sono avvenuti in questi ultimi 30 anni non sono tutti cambiamenti positivi perché non dobbiamo mai dimenticare che in questi ultimi 30 anni è andata avanti la finanza speculativa e la finanza speculativa che oggi ci fa pagare il gas al prezzo che sappiamo quando per esempio è tutti noto che l'Eni ha fatto un contratto ultradecennale con la Russia che viene rispettato e allora noi dobbiamo struncare le mani alla finanza speculativa non possiamo permettere che le sovranazionali decidano tutto come vogliono pensiamo anche nel commercio alle grandi superfici alle grandi surface come dicono i francesi e quanti hanno messo in crisi anche il settore commerciale di prossimità quello che è l'unico che resta soprattutto nell'entroterra dei piccoli centri e allora che qui la desertificazione che hanno portato avanti perché lo sappiamo che hanno fatto le banche e le poste no? nei piccoli centri chiusi tutti chiuso tutto perché dovrebbero restare lì? che prospettiva avrebbe il commercio in questo contesto? quindi è chiaro che loro fanno delle proposte e in questo senso sono condivisibili altre meno infatti io su alcune come dire ho una mia visione critica però le cose giuste che dicono vanno come dire sottolineate Giulia Marchionni pesarese puro sangue candidata con il centro-destra nella lista noi moderati è una investitura importante e Confcommercio oggi propone nove punti che dovrebbero essere presi in esame crediamo da ogni gruppo politico sì la lista noi moderati ha aderito con grande convinzione a questo manifesto che è il vero manifesto per la ripartenza dell'Italia perché ci siamo resi conto e credo insomma sia sotto gli occhi di tutti che la nazione è fatta delle piccole e medie imprese che costellano il territorio nelle Marche abbiamo la grande fortuna di avere tante eccellenze nella provincia di Pesaro queste eccellenze sono concentrate e sono davvero di altissima qualità dei tanti punti nel manifesto io credo che l'attenzione che vada posta nei confronti delle aree interne vero cardine e cuore delle piccole e medie imprese italiane e vera dorsale dell'economia da cui ripartire sia il punto fondamentale noi non ci dimentichiamo anche di quello che è successo pochi giorni fa e di come davvero a pagare il prezzo di questo terribile dramma siano state soprattutto le piccole e medie imprese crediamo sia estremamente importante potersi rimettere in piedi perché se chiudono le piccole e medie imprese del nostro territorio finisce davvero l'economia c'è qualcuno che dice il rischio anche con il caro energia è che chiudano più imprese di quelle che hanno chiuso durante il lockdown questo non lo possiamo permettere e anzi abbiamo chiesto agli alleati di centrodestra di condividere la proposta portata avanti dal presidente Toti di impegnare subito le risorse del piano 21-27 le risorse europee per poter abbattere immediatamente quello che è il grande dramma delle aziende riuscire a pagare i costi dell'energia una volta riuscito ad arginare questo grande dramma siamo pronti a rilanciare il paese attraverso tante idee che possano davvero portare anche le aree interne vero cuore pulsante del nostro paese a tornare ad essere la casa per tanti giovani perché se noi riusciamo a portare i servizi se noi riusciamo a portare anche la capacità di accogliere le nuove famiglie e saremo in grado di dare nuova vita a territori che altrimenti rischiano di morire Daniele Vimini candidato del PD presente anche lui all'incontro organizzato da Confcommercio nove punti presentati dall'associazione di categoria per i quali sicuramente vale la pena approfondire qualcosa sì assolutamente è un confronto che ovviamente risente anche del clima generatosi dalla Scegura del weekend scorso nella provincia di Pesaro e nella provincia di Ancona e penso che sia importante tenere fuori questo tema dalla campagna elettorale o almeno dallo scontro politico anche se poi è un grande tema politico l'ambiente e la cura del territorio anche per l'immediato futuro e allo stesso tempo confrontarsi oggi sulle soluzioni per l'economia a partire dal turismo che è uno dei temi principali che si vede legati anche territorialmente all'azione di confcommercio molte le proposte naturalmente credo che bisogna concentrarsi in questo momento su come uscire prima e meglio dalla crisi economica che si sta appaventando anche con l'aumento dei prezzi l'inflazione i costi dell'energia per le famiglie e per le imprese e il primo punto debba essere quello di ripartire dal potere d'acquisto quindi gli interventi sulla busta paga sul salario minimo su contratti nazionali che siano veri contratti nazionali e non 600 scappatoie per costruire precariato per i lavoratori in modo che si possa poi anche fare ripartire i consumi quindi dare più salute alle imprese anche le piccole imprese piccole e medie imprese attività artesanali e commerciali del nostro territorio questo ad essenza con un focus specifico anche sul turismo del nostro territorio che ha bisogno di investimenti regionali e nazionali soprattutto per la riqualificazione delle strutture alberghiere perché poi è uno dei biglietti a visita più importanti che dobbiamo spendersi anche verso la capitale italiana della cultura 2024 Antonio Baldelli candidato per Fratelli d'Italia presente all'incontro con la ConfCommercio è stato sicuramente un incontro molto fruttuoso tanti punti di vista che concordano col programma di Fratelli d'Italia con i nuovi punti della ConfCommercio sì c'è una sintonia tra sicuramente il programma elettorale di Fratelli d'Italia e la base programmatica di ConfCommercio ma l'attività di Fratelli d'Italia anche in questa legislatura molte volte ha conciso con gli interessi di questa associazione di categoria e quindi il compito della nutrita pattuglia di parlamentari che noi ci auspichiamo di eleggere almeno secondo i sondaggi in Parlamento dovrà rappresentare a livello regionale sicuramente le istanze del territorio e portare a Roma al governo all'attenzione dei ministeri competenti se più importanti che riguardano la nostra regione che è stata sempre una regione cenerentola forse perché non mai adeguatamente rappresentata penso ad esempio che in questa legislatura le Marche hanno avuto anche un sottosegretario allo sviluppo economico eppure io ma insieme a me molti altri cittadini non ricordano alcuna attività degna di nota da parte di questo esponente di governo quindi oggi ancora più l'esigenza di sottoporre al ministro dell'infrastruttura ad esempio l'arretramento della linea ferroviaria adriatica lo sblocco veloce già la regione ha fatto la sua parte della Guinza e della Fano Grosseto il finanziamento del masterplan delle infrastrutture realizzato per la prima volta in oltre 40 anni di amministrazioni regionali realizzato prima volta dalla giunta Acquaroli che disegna nella nostra regione una rete di intervallive pedemontane che rendono finalmente moderna e renderanno finalmente moderna la nostra regione purtroppo noi ereditiamo 30 anni di governi di sinistra che hanno secondo l'Europa e non secondo Fratelli d'Italia fatto scivolare la regione Marche fra le regioni in transizione cosa significa che la regione Marche non ha più un moto propulsivo ma si è accodata ormai ai vagoni fermi delle altre regioni purtroppo del sud delle altre regioni sottosviluppate quindi per questo è ancora più importante risollevare l'Italia e con l'Italia risollevare anche le Marche ed eccoci qua carissime telesperattrici e telespettatori si è appena concluso l'incontro organizzato da Confcommercio tre ore intensissime di incontri di dibattito di presentazioni di tantissime promesse di tantissime proposte concrete noi abbiamo seguito tutto per voi crediamo che sia stato davvero uno spaccato molto interessante che magari ci potrà anche dare delle idee in vista delle elezioni di domenica ringraziamo Davide Pagnini per la parte tecnica e ancora buona serata a tutti grazie a tutti